Ciao, senti, cercavo qualche frumento della legge Ciao, certo, che genere? Non so, fai tu qualcosa per ragazzi Un bel volo di fare... No, va bene, non mi piace E questo... Braa, che robaccia, via Questo è un proprio... Eh, questo paparino lo lasciavi Zero calcare... Ma chi è questo? Ma sei capace a fare tuo lavoro? Ah, pure Sentimi, c'è un sistema costo qui E tu mi pari preparato, mi puoi consigliare qualcosa? Guarda, prendi questo, è spaziale Ma è proprio quello che cercavo? Si vede, si vede che sei un grande esperto Finalmente ho da leggere qualcosa